...d'angolo, De Lucia battuto, rischia il 2 a 0, passa la paura, il Parma si organizza, comincia a giocare dopo 40 minuti di nulla, trova il gol dell'1 a 1, grandestro di Cianamitaro, De Sena bravissimo a inserirsi, grande protagonista della bio di stagione, Daniele De Sena, solita esultanza e terzo gol per...